La data è un po' la sua particolarità, nel cuore dell'inverno la fiera di Lonato del Garda arriva quest'anno alla sua 54esima edizione. L'evento ispirato alla tradizione agricola e alla ricorrenza di Sant'Antonio Abate tornerà per le vie, le piazze, le scuole e la tensostruttura allestita appositamente. Una fiera sobria come l'hanno definita gli organizzatori per via della crisi che non risparmia le fiere. Dal 13 al 15 gennaio una ricca serie di appuntamenti dal circuito enogastronomico Tutporcell che coinvolge i ristoratori lonatesi a legare enogastronomiche e ancora mostre di pittura, libri e gli immancabili stand di prodotti tipici contadini. Inaugurazione ufficiale sabato 14 alle 10.30. Il fatto che anche quest'anno si sia fatto il pieno fa ben sperare che comunque la fiducia nell'uomo, la fiducia nell'impresa, la fiducia nei nostri agricoltori, negli stand enogastronomici, nel comitato che si è dato da fare è ancora piena e questo fa ben sperare che il 2012 perlomeno porti qualche risultato positivo. Sono 54 anni che questa manifestazione crea un'atmosfera tale che sia i lonatesi che le migliaia di persone che vi partecipano è calda, appunto che la vivono nonostante il periodo atmosferico diciamo non è dei migliori, però dobbiamo dare anche atto che è la prima delle grandi fiere importanti per quanto riguarda il panorama fieristico della nostra provincia.